E' la scrittrice Silvana De Mari la vincitrice del premio Ceppio Ragazzi per l'infanzia e l'adolescenza 2015. La scelta della giuria del premio Ceppo, quest'anno giunta alla sessantesima edizione, è stata annunciata dai vertici dell'omonimo Accademia. De Mari è considerata una delle scrittrici fantasy italiane più lette al mondo, anche grazie alla sua saga Ania, edita da Giulti, che attraverso figure come Elfi, Nani e Draghi parla non solo ai giovani di temi come la giustizia, la discriminazione, il coraggio. Nell'eterna lotta tra bene e male. Lei ha vinto per appunto questa saga nuova pubblicata da Giunti Editore, che appunto si chiama Ania, il Cavaliere della Luce. Siamo veramente contenti perché il Ceppo sta acquisendo ulteriormente fama a livello onestamente internazionale. Quest'anno è il sessantesimo e quindi sono già programmate moltissime attività ulteriori rispetto a quello che è il nostro Ceppo tradizionale, che rimarrà e che deve rimanere. Il premio letterario del Ceppo costituisce un'antica tradizione pistoese che va coltivata e credo che abbia anche il vanto di poter dire che in questa continuità che ha saputo dare in questi anni c'è un risveglio all'interesse culturale della città. Grazie. Grazie. Grazie.